Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day, poi stai magari così no che se di succeduta contro una persona al di brutto e che in qualche forma bisogna ridere da ogni sbrego di Mendalù, poi stai, ma c'è tutto, non sono mica tutti le giornate scompagni, hanno di aspettare la giornata giusta che tutti sentono di fronte al discorso, di fronte anche persone, non ho me, ma bisogna anche stare attenzione, che persone vede la giornata giusta per chi ha in considerazione la roba che gli è succeduta, è un lavoro veramente difficile, però intanto non si ha mai di dire che è finita, si ha sempre di sperare, e si ha di sperare che capiti un'occasione là che il caos ti dà ad ogni e di che persone, che è un'occasione lì e io ne grazie dà a tutti le persone, tu stai tende, non piardile, per bene di tutti le persone. Buona giornata e buona vita. Grazie a tutti.